Sono passati pochissimi giorni dall'elezione e dal giuramento del neo-presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Sentiamo quali sono le prime impressioni di alcuni valdarnesi sul nuovo capo dello Stato. Cosa ne pensa del neo-eletto presidente della Repubblica Sergio Mattarella? Mi sembra una persona abbastanza valida, una persona con dei passati fra lui, e in passato aveva avuto il suo fratello, una persona abbastanza alla portata di mano. Dian tutti è bravo, io non avevo mai sentito nemmeno a mentale, non è che sono molto preparata per la politica. Bene, penso che è bene. Per quello che mi riguarda e per la storia che ho visto e che conosco, è una persona degna di rispetto, retta, viene da una tradizione di famiglia non indifferente, come tutti sapete sono il fratello, anche il padre. Quindi, diciamo, da questo punto di vista, per la funzione che dovrà svolgere, lo ritengo all'altezza. È una persona per me squisita, mi piace moltissimo. L'avrei scelta anch'io se me l'avessero dato l'opportunità. Nella situazione attuale era difficile fare meglio, sinceramente. È una persona rispettabile, che ha una storia politica di tutto rispetto, e che credo rappresenti meglio di qualsiasi altro in questo momento la possibilità di avere un presidente amato da tutti.